video riprese in 4k con huawei nova 5t vediamo ripresa ampio raggio 2x digitale e torniamo 1x ora ci spostiamo siamo in 16 noni un po messo a fuoco non sembra assolutamente male andiamo a fare ora un cambio di luce solito garage dei miei genitori vediamo zona ragnatele poca luce ma sembra gestirla comunque bene ciao